Ha aspettato la fine della giornata, la chiusura dell'esercizio commerciale per entrare in azione. Lo scippatore solitario, inagguato, ha teso il tabaccaio di vieni scemi che chiudesse la saracinesca per rubargli la borsa e scappare velocemente a piedi col bottino. La borsa conteneva l'incasso dell'intera giornata, ovvero 3.000 euro. Nessun danno all'uomo che non è stato aggredito fisicamente.